La pioggia lascia un po' di amare in bocca proprio nel giorno in cui la città attende con grande fermento la processione e onore del Santo Patrono. Eppure la devozione nei confronti di San Michele Arcangelo rimane una costante per i numerosi fedeli che anche nei giorni precedenti si sono recati in cattedrale per una preghiera, ammirare il suo simulacro, chiedere una grazia e accendere un cero, singolarmente oppure insieme alle varie parrocchie della città che hanno effettuato il pellegrinaggio. La devozione si nutre della presenza di questi volontari che appartengono alle tre associazioni, il Devoti Portatore, la Deputazione di San Michele e anche la Lega di San Michele Arcangelo. Oltre al loro contributo materiale, alla loro presenza, al loro coinvolgimento emotivo direi anche, stiamo cercando in questi ultimi anni di coinvolgere le varie parrocchie della città. Vengono tanti fedeli sparsi lungo tutta la giornata, portano i lumini, vengono a fare la loro preghiera, a chiedere le grazie necessarie per le loro famiglie. Ecco c'è una devozione silente anche che non si vede, ma noi che viviamo qui dentro la cattedrale notiamo. La diocesi di Caltanissette dunque con il coinvolgimento della parrocchia della cattedrale insieme al Comune organizzano ogni anno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Ma ci sono anche delle realtà associative che da anni collaborano, ciascuna con un ruolo differente. C'è chi accompagna la processione come la Lega di San Michele, chi si occupa del simulacro e cioè la deputazione, chi lo porta a spalla, i Devoti Portatori. Ciò che accomuna i loro componenti è la grande fede nei confronti del Santo Patrono. Per me è molto importante perché ho una devozione molto io verso San Michele e poi è una tradizione che si tramanda dai miei nonni, mio padre, miei zii, miei cugini eccetera eccetera. Io e la mia famiglia San Michele l'abbiamo chiamato, ci ha risposto tante volte e io lo servo come giusto per un credente, per un vedele. Io lo faccio con il cuore, con l'anima perché ripeto l'abbiamo chiamato con la nostra famiglia e ci ha risposto sempre San Michele, come San Michele e come tutti i santi. Sono onorato e fiero di poter dire che sono uno dei Devoti Portatori di San Michele. La nostra storia è bellissima, almeno credo che sia la storia mia sia la storia che possa essere la storia di tutti, anzi credo proprio che sia così. Mi è venuta questa voglia di essere uno dei portatori di San Michele. E' quello che a noi spinge, è un senso di devozione, ci spinge a fare questo grande piacere. Un senso di devozione, un senso di commozione che ci tiene tutto il tempo, ci tiene in uno stato etereo. Ci dà una sensazione di essere sollevati da terra. Ci dà a tutti un inspiegabile senso di commozione. Quasi tutti abbiamo le lacrime agli occhi, non si capisce perché, però io so perché. Poi questo si manifesta, si acuisce in qualche modo ancora di più nel momento in cui c'è l'uscita della cattedrale e l'entrata della cattedrale. Quello credo che possa essere il culmine della nostra devozione, del nostro sentimento nei confronti di San Michele. Il sentimento è che c'è tutto l'anno ovviamente, però quello è il momento in cui credo, non lo so per quale motivazione, si esterna ancora di più.